Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. In primo piano ovviamente la situazione politica italiana che si è venuta a creare nelle ultime ore. Allora sentiamo in merito alla situazione immediatamente un commento del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. La fine di questa esperienza governativa è la fine di un'agonia. Purtroppo è così, ci abbiamo creduto fino in fondo, ma alla fine dobbiamo guardare i dati concreti che sono quelli che la politica dei no, dir di no a tutto, non ci fa governare. Lo posso dire da governatore del Veneto, visto e considerato questi no li ho sentiti sulla Pedemontana Veneta, che peraltro è l'opera più grande oggi in cantiere in Italia. Li abbiamo sentiti anche di recente sulla partita della Tava, è un'opera voluta a tutti i Veneti, non esistono comitati contro. E poi infine quello che è accaduto con l'autonomia. Stiamo ancora attendendo una risposta come Veneti per l'autonomia. e nonostante siano passati 660 giorni dal referendum, ancora un nulla di fatto. Quindi si chiuda questa esperienza, la si chiuda subito e si vada subito a votare. Questa è l'unica cosa che serve ai cittadini. È vero, è un governo forte, eletto che esca dalle urne e che presenti un programma che sia utile a uscire dalla crisi ma anche a fare le molte cose che vogliono fare. E proseguiamo adesso con altri fatti di cronaca. Ha serrati i controlli del territorio in città da parte della Polizia di Padova. A partire dalla sera del 7 agosto e per l'intera giornata di ieri è stata disposta a un'implementazione dei controlli del territorio da parte degli agenti della Questura, coadiuvati da unità di supporto del reparto Prevenzione e Crimine del Veneto. L'attività è stata finalizzata a prevenire e contrastare i reati di microcriminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti ed è stata svolta nelle aree maggiormente caratterizzate da questi fenomeni, le aree calde della città, prevalentemente Piazzetta Gasparotto, l'area della stazione ferroviaria e del quartiere Arcella, zona San Carlo. La task force, composta dalle pattuglie della sezione volanti e dagli uomini in borghese della squadra mobile, ha attuato un capillare controllo del territorio attraverso l'identificazione di mezzi, persone e avventori di esercizi pubblici. In totale 5 gli uomini arrestati, tutti immigrati, 12 le persone denunciate tra italiani e stranieri per vari reati. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica della morte di un uomo di 42 anni trovato senza vita dentro al suo appartamento a Grisignano, in provincia di Vicenza. L'uomo aveva un coltello nel petto, è stato trovato dentro alla box doccia. La scoperta è stata fatta dalle forze dell'ordine, allertate perché da giorni i vicini avevano iniziato a sentire un odore strano proveniente proprio dall'appartamento. Al momento le indagini sono a 360 gradi, anche se non viene esclusa l'ipotesi di un gesto estremo. E adesso parliamo di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, quando una macchina senza controllo è finita contro il muro di una casa. Feriti tutti e quattro gli occupanti. Una Ford Fiesta con quattro ragazzi a bordo è uscita di strada a Codivigo, in provincia di Padova. L'auto stava viaggiando lungo via altopiano. Quando il conducente ha perso il controllo e a forte velocità l'automobile si è schiantata contro il muro di una casa. Per estrarre i feriti sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti numerose ambulanze che hanno portato i giovani all'ospedale. Uno di loro, una ragazza, è grave. Presenti le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Sono più di 50.000 i prodotti non sicuri e più di 6.000 i prodotti contraffatti sequestrati negli ultimi sei mesi dalla Guardia di Finanza di Venezia in negozi e bancherelle del Centro Storico Lagunare. È il bilancio dell'operazione Commercio Sicuro che il Comando Provinciale di Venezia sta sviluppando per tutelare gli acquisti di turisti e residenti. Oltre 100 i soggetti verbalizzati e segnalati alle autorità, tra titolari di attività di vendita, di souvenir e gadget vari. Le pene pecuniari e combinati ammontano a diverse decine di migliaia di euro. Le irregolarità in seguito ai controlli eseguiti del primo e secondo nucleo operativo metropolitano e dei baschi verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia sono diversificate. Al centro dell'attenzione numerosi negozi e bancherelle. In molti casi le merci erano prive dell'etichettatura che invece è obbligatoria e prevista dal Codice del Consumo. Diversi i tipi di merci sequestrate. La maggior parte dei venditori verbalizzati è di origine extracomunitaria. Per una maggiore tutela dei consumatori questi controlli sono stati affiancati da uno strumento importante, lo spettrometro, che è in grado di dare immediatamente delle indicazioni sull'eventuale presenza di metalli pesanti all'interno delle merci controllate. E adesso ci spostiamo, parliamo di un altro argomento. Da quando i social sono presenti nella quotidianità di molte persone sono aumentate anche le truffe, le estorsioni e le minacce. Non si può mai sapere in realtà che si nasconde dall'altra parte. Tanti cadono in tranelli pericolosi sui social. Sentiamo cosa è successo ad un uomo dell'Alta Padovana. Continuano ad aumentare le truffe amorose attraverso i social. Nonostante il continuo tantamma che evidenzia numerosi episodi, sono sempre molte le persone, uomini e donne, che cadono nei tranelli di chi si finge innamorato e poi arriva sempre ad una richiesta di denaro. Negli ultimi giorni i carabinieri di Campo San Piero, in provincia di Padova, hanno identificato due donne marocchine, madre e figlia, che dopo aver circuito un signore italiano, hanno iniziato a distorcergli denaro con la minaccia di diffondere i contenuti di messaggi e foto hot che si erano scambiati. In particolare la figlia fingeva di essere minorenne e potergli procurare guai seri con la giustizia. In realtà la giovane di anni ne ha 26 e nonostante le prestanti richieste, e le minacce, l'uomo si è rivolto ai carabinieri. Le due sono state identificate e denunciate. Un ragazzino di soli 15 anni è stato denunciato per atti persecutori, una vicenda che ha dell'incredibile e che arriva da un comune della bassa padovana. L'adolescente era diventato l'incubo per un signore anziano, un uomo di 86 anni, suo vicino di casa. Quando lo incrociava lo insultava e lo prendeva in giro. La cosa peggiore è stata quella di aprire un profilo social con il suo nome, scattare foto a sua insaputa per cercare immagini ridicole da pubblicare. Una cattiveria difficile da immaginare che ha costretto l'86enne a rivolgersi ai carabinieri. Finalmente questa attività è terminata. E sono terminate con un lieto fine anche le ricerche di una donna scomparsa in provincia di Vicenza. 51 anni, da ieri mattina erano in corso le ricerche. In campo erano scesi numerosi uomini che hanno setacciato il territorio. Si stava facendo strada, l'ipotesi più brutta, ma fortunatamente le ricerche sono terminate con il suo ritrovo e la donna è in buone condizioni di salute. Era nel seminterrato della chiesa di Valle di Castelgomberto. E adesso parliamo di nuove nascite di sostegno da parte della Regione Veneto. Sentiamo. Un assegno prenatale sin dai primi mesi della gravidanza per sostenere i costi legati all'attesa e alla nascita di un bebè. L'avvio in fase sperimentale di accessi gratuiti ai nidi con priorità per le famiglie più in difficoltà o con disabili a carico. Incentivi e fondi speciali per le amministrazioni comunali che introducano orari flessibili nei servizi per la prima infanzia, aiutando così i genitori a conciliare famiglia e lavoro e che offrano servizi a tariffa scontata per i nuclei familiari con figli orfani di uno o entrambi i genitori. E poi un fondo regionale per le famiglie monoparentali, cioè i genitori soli, vedovi, separati o divorziati, in difficoltà economica. Sono i contenuti del disegno di legge approvato dalla Giunta regionale del Veneto su proposta dell'assessore al sociale e alla sanità Manuela Lanzarin. Arrestato un tunisino che in preda ai fumi dell'alcol si è intruffolato da una finestra in casa del fratello scatenando un'ira improvvisa verso di lui e un'amica. L'uomo era armato di coltello con il quale lo minacciava assieme alla fidanzata. Hanno chiesto aiuto fino a quando sono arrivati i carabinieri. Tra l'altro a causa del levato tasso alcolico i militari quando sono entrati in casa lo hanno trovato addormentato con il coltello a fianco. Quando si è risvegliato però la sua ira è ricominciata e si è presentata anche nei confronti degli uomini in divisa. E adesso l'appuntamento è quello con la rubrica di approfondimento. Appuntamento sempre molto atteso. Allora diamo spazio alla storia e a Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Tiziano Veccellio in quanto in questi giorni dalla Galleria degli Uffizi di Firenze è arrivato il suo ritratto ed è stato collocato nella casa di Pieve di Cadore, provincia di Belluno. È un prestito e quindi l'opera è visitabile per pochi mesi. E allora conosciamo il grande pittore che nacque a Pieve di Cadore. La data di nascita è incerta ed oscilla tra il 1485 e il 1490. Era di famiglia benestante. Lui ha avuto la fortuna di dedicarsi alla pittura per più di 60 anni. All'età di 10 anni manifestò il suo talento con un dipinto nel muro di casa. Era l'immagine della Madonna. Il padre rimase stupito di questo disegno e decise così di avviare Tiziano allo studio del disegno. Fu trasferito a Venezia accompagnato dal fratello maggiore Francesco e qui iniziò lo studio nella bottega del pittore più famoso dell'epoca Gentile Bellini che era il pittore ufficiale della Serenissima. A poco a poco si inserì nella città di elevato tenore culturale e qui incontrò i grandi pittori del suo tempo Vittor Carpaccio, Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo e molti altri. Conobbe anche il Giorgione con il quale ebbe un rapporto artistico molto stretto e con lui dipinse le facciate del fondaco dei tedeschi. Giorgione dipinse la facciata verso il Canal Grande mentre Tiziano quella verso le mercerie. Tiziano appena ventenne arrivò anche a Padova per dipingere i tre miracoli di Sant'Antonio nella scuola del Santo che si trova vicino alla Basilica. Via via Tiziano diventa famoso, nella sua bottega arrivano commissioni importanti di diversi soggetti, dal soggetto allegorico, mitologico e anche religioso. Tante e famose sono poi le pale d'altare del Tiziano, impossibile ricordarle tutte, noi ne citiamo solo qualcuna, la pala di San Marco in trono che si trova nella Basilica della Salute di Venezia. E' una per tutte l'assunta che appunto è collocata nella Basilica dei Frari, sempre a Venezia, un'opera che non è stata compresa da subito e non fu molto apprezzata. Infatti rappresenta la scena di Maria che sale in cielo e che ha le mani elevate verso l'alto con questo viso in estasi. Questo dipinto è stato commissionato in seguito a quella che è stata la vittoria di Venezia sulla Lega di Cambrai del 1509. Inoltre fu un famosissimo ritratista, i grandi della sua epoca volevano il ritratto da Tiziano e uno di questi è stato Carlo Quinto che è stato definito il padrone del mondo e lui voleva appunto avere il ritratto da parte di Tiziano. Fu nominato poi anche pittore ufficiale della Serenissima, un riconoscimento eccezionale a cui si teneva moltissimo. Tiziano poi, ricordiamo anche nella vita privata, sposò una ragazza feltrina, Cecilia Soldani e la coppia ebbe tre figli. Purtroppo con la nascita della terza figlia, Lavinia, la moglie morì. Lui non si risposò mai più e si dedicò alla vita, a quella che era l'impegno, ebbe l'impegno per i figli. Tiziano, Tiziano quindi si tratta di un pittore, uno dei più grandi della storia e i suoi dipinti e le sue opere praticamente li troviamo in tutti i musei del mondo. Quindi un'occasione anche per vedere il suo ritratto che è appena arrivato, come dicevamo, nella sua casa a Pieve di Cadore. E ricordiamo l'appuntamento con la rubrica di storia durante ogni fine settimana. Adesso parliamo invece di Istat. Oggi sono stati resi noti dei dati. A luglio 2019, il cosiddetto carrello della spesa, l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, segna un rincaro dello 0,6%, registrando una crescita più sostenuta di quella riferita all'intero paniere. Questi dati definitivi dell'Istat, che comunque rivede al ribasso la stima preliminare, e c'è invece una deflazione in cinque città del centro nord. A luglio ci sono cinque capoluoghi del centro nord, in seppur lieve deflazioni, sono Ancona, Livorno e Ravenna, Perugia e Bologna. Ultimo giorno di lavoro, quello di oggi per moltissime aziende. Il weekend si preannuncia da bollino nero sulle strade verso le località di vacanza. Giornata critica prevista in particolare per sabato e consigliamo sempre a chi deve mettersi in viaggio di valutare la situazione attraverso i canali che forniscono i rilevamenti in tempo reale. Diamo uno sguardo anche alle condizioni climatiche. I prossimi tre giorni sono previsti caldo, anche a livello meteo. La pressione sarà in aumento per l'espansione di una vasta area anticiclonica di origine africana. Il tempo sarà stabile e ben soleggiato, soprattutto in pianura, mentre in montagna potrà occasionalmente essere presente dell'instabilità, più probabile però nei prossimi giorni. È tutto, siamo arrivati al termine di questo spazio dedicato all'informazione. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata.